Sindaco, il suo mandato sta per concludersi in questi ultimi mesi, c'è stato ovviamente, c'è fermento, ci si sta preparando alla prossima campagna elettorale. Voi invece che siete, ministro del suoniuscente, state utilizzando la linea forse meno, come dire, state probabilmente lavorando in silenzio. Non c'è stata ancora una ufficialità, però diciamo che la sua candidatura è data per scontato per il secondo mandato. Sì, data per scontata. Io credo che quando si inizia il lavoro, già quando noi ci siamo presentati cinque anni fa, io dissi che sarò eletto sindaco davvero, sia a fine mandato, avrò svolto quello che è il mio programma. Allora, questo sarà oggetto poi di quello che nei prossimi mesi noi diremo ai cittadini, perché abbiamo lavorato per cinque anni, abbiamo certamente messo mano a tantissimi argomenti importanti per il nostro Paese, per la nostra comunità. Non sto qua a citarle, perché chiaramente ogni settore poi c'è sempre da approfondire. Quindi noi punteremo su questo, sul lavoro svolto, perché giusto così noi abbiamo avuto un mandato, tutti insieme ci riproporremo, chiaramente con lo stesso meccanismo di cinque anni fa, le adesioni sono sempre ben accette, perché il sale è sempre l'adesione e la democrazia di un Paese. Ci possono essere dissensi, ma l'obiettivo comune deve sempre e comunque essere quello di lavorare per il Paese. Finché c'è questa serenità, allora io credo che una comunità può solo crescere. Quello che faranno gli altri non è che non mi riguarda, però è chiaro che ognuno può avere dei programmi diversi da presentare ed è giusto che sia così. Noi abbiamo già dei dati di fatto, cioè il lavoro svolto nei nostri cinque anni direi. Ci riproporremo sicuramente con delle novità nella nostra lista e quindi cerchiamo di portare avanti quello che il nostro programma è troppo semplice, quello che noi vorremmo che fosse il nostro Paese. Si può fare soltanto programmando, ma con molta, perché sono periodi che tutti sappiamo essere molto critici dal punto di vista economico-finanziario e quindi bisogna fare molti sacrifici. Non basta solo l'azione degli amministratori, ma sarà importante per il futuro l'adesione dei cittadini non soltanto come iniziative, ma per esempio a contribuire nel modo corretto, perché se non ci sono entrate non si possono pensare di avere i servizi. Quindi anche questo sarà importante. Anche l'imprenditoria dovrà fare bene il proprio ruolo, se noi vogliamo essere un Paese turistico all'avanguardia. Quindi ognuno deve svolgere bene il proprio ruolo, non può aspettare solo che sia l'altra parte a svolgere l'azione. Quindi tutti insieme credo che, veramente, io credo di aver fatto un buon lavoro, credo che passi avanti ne sono stati fatti in questo Paese. Non bastano, un po' come il discorso che facevamo prima per la protezione civile. Bisogna avere un buon punto di partenza. Credo che noi abbiamo messo le basi. Si può solo migliorare in questo Paese. Senta, dal punto di vista strettamente politico, nel corso di questi cinque anni sono stati persi dei pezzi che vengono considerati da un punto di vista di peso elettorale abbastanza importanti. Il Presidente del Consiglio Gabriele Butto, l'ex Vice Sindaco Teodoro Lamonica. Sarà anche necessario bilanciare, anche perché, diciamo che, ormai è, come dire, quantomeno dal punto di vista di voci popolari, si sono, in qualche maniera, come dire, si stanno anche loro preparando per una corsa, addirittura forse a tre. Sì, allora, intanto bisogna guardare fondamentalmente a quello che si programma. Loro non si sono tirati indietro perché noi non abbiamo portato avanti il nostro programma. Ci sono state altre motivazioni. Le dovranno spiegare loro ai cittadini, chiaramente. Non c'è da fare una sostituzione delle persone, ma c'è da comunicare ai cittadini, come dicevo prima, quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo continuare a fare, nell'interesse della comunità. La singola persona, anche dal sindaco, agli assessori, sono gli strumenti del popolo. Quindi non è importante sostituire le persone che le ha citato, ma bisogna inserire persone che hanno voglia di lavorare per il loro Paese. Questo è fondamentale, questo messaggio deve passare. Non è, cioè, potrebbe essere virtuale anche la possibilità di portare voti, no? Perché chi ha detto, chi lo ha stabilito il peso, quello mio, quello del Presidente del Consiglio, quello di... No, questo è un peso che si dovrà vedere nella cabina elettorale, in base al lavoro svolto. E quindi ognuno porta il proprio patrimonio di lavoro fatto.